Ho pensato che forse l'autore di Tania ha molto da dirci anche su questo periodo dell'anno, anzi è stato uno dei delle sue bandiere, l'idea di spiegare bene secondo la Hasidut il significato di ogni festività, il motivo per il quale si trova in quel periodo dell'anno e qual è la connessione tra una festività e l'altra, quindi valeva la pena. Il problema è che lo faremo in diretta, nel senso che sto leggendo insieme a voi, quindi mi ascoltate con un pochino di pazienza e vediamo se riusciamo a fare una bella lezione. Intanto scudo per la voce, ma è la voce del giorno dopo Kipur. Tutti gli anni succede, quindi niente di grave. C'era Vittorio ieri, ma non si è dato la pena di dire vieni dai ti aiuto io, canto qualcosa anch'io, facciamo qualcosa insieme. Niente, ha fatto lo spettatore che ha scendi di a lunga vita e a tutti quanti voi. Manco suonatelo Shufar. Senti, ti preparo l'anno prossimo e lo suoni tu? Sì, sì, se vuoi sì. No, diceva Vittorio. Ti meraviglierai. Dovrei fare prove. L'anno prossimo ci sarà bisogno, arriveremo a Shia prima. Esatto, esatto. Sentiamoci far di Mashiach e siamo a posto. Ok, allora la prima domanda che l'autore di Italia si fa è spiegare qual è il nesso che c'è tra la ricopertura che mettiamo sopra la sukkah, che si chiama in ebraico Shach. Shach è una parola che significa qualcosa che fa ombra. Noi veniamo da Rosh Hashanah, abbiamo appena parlato dello Shufar. Quando a Rosh Hashanah suonamo lo Shufar dobbiamo sentire cento voci. In altre parole, quando noi la mattina del Rosh Hashanah siamo in Betacneset, tra lo Shufar che facciamo con la Berakha e lo Shufar che suoniamo nel Musaf, nelle due volte, più l'ultimo Shufar alla fine del Musaf, abbiamo cento voci. Ora, questa idea di cento voci si rispecchia anche nella festa di sukkah. Fate attenzione un attimo, se io prendo la parola Shach, la parola Shach si scrive con tre lettere, con la Samech, Shaf e Chaf. Il valore numerico della Samech è 60, Chaf è 20, quindi 60, 20, 20, siamo arrivati a 100. Quindi abbiamo cento suoni dello Shufar e abbiamo lo stesso numero che compone la parola Shach. Quindi abbiamo già trovato subito, prima di iniziare, un legame tra Rosh Hashanah e Sukkot. Ma la cosa interessante è che non è soltanto un numero che troviamo qui cento e qui cento. Anche se lo dividiamo, prendiamo la parola Shach, che è composta da tre lettere. Abbiamo anche nello Shufar tre differenti voci, perché abbiamo nello Shufar la Tekiyah, che è il suono lungo, abbiamo il Shevarim, che significa questo suono rotto, più avanti spiegheremo perché si chiama così e che cosa ci deve insegnare. E poi abbiamo il suono che si chiama Teruah, che sono questi piccoli suoni. Quindi abbiamo tre tipi di suoni durante la mitzvah di sentire lo Shufar. E se io prendo la parola Shach, vediamo che c'è una perfetta sincronia, un perfetto parallelismo tra 60-20-20 e lo Shufar, perché noi a Rosh Hashanah suoniamo 60 Tekiyot, 20 Shevarim e 20 Teruot. Quindi vediamo che non è soltanto legato a un numero, ma è legato in modo individuale la mitzvah dello Shufar con la mitzvah della Sukkah. Quando noi giochiamo un attimino con i numeri, dobbiamo anche trovare il motivo per il quale abbiamo detto qui abbiamo questo numero, qui abbiamo questo numero. Non è che ogni cosa che ha lo stesso valore numerico ha un nesso, ha un legame. È facilissimo prendere un libro, io ho conosciuto una persona, che lui scrive tutti i versetti, questo versetto 560 valore numerico, questo versetto 561, così, e poi trova parole, trova cose, inizia a fare delle insalate, ma non serve a niente. A parte che se tu non sei uno saddiche, che hai ricevuto dal cielo questa rivelazione, che questa parola ha questo valore numerico, perché è legata con questo concetto? Puoi fare tanti giochetti numerici. Quello che noi vogliamo capire è molto semplicemente, ok, abbiamo trovato un nesso tra lo shah e il shofar. Dammi qualcosa di più, in altre parole spiegami meglio che cosa significa il concetto dello shofar, perché è legato col concetto dello shofar. In realtà sono due festività completamente diverse tra loro. Non c'è un legame, non c'è qualcosa che ricorda Rosh Hashanah con Sukkot, anzi non solo che non ricordano, ma sono due festività che uno, quando studia quello che la Torah ti dice di fare a Rosh Hashanah e quello che la Torah ti dice di fare a Sukkot, sono due concetti completamente opposti, ok? Fin qui ci siamo, ok? Quindi abbiamo detto, cerchiamo di capire qual è il nesso fra le due festività. In generale noi abbiamo un mese che è conosciuto come Chodesh Ashevi'i, il settimo mese, perché è anche se tu prendi il punto della Shin e lo sposti alla Shin, diventa Chodesh Ashevi'i, il Chodesh che è sazio, sazio di festività. C'è una cosa interessante che non credo di aver detto nell'ultima lezione, perché è passato un po' di tempo. avevamo spiegato, credo in sinagoga, avevamo spiegato che il numero 7 è il numero preferito nella Torah. Hashem ha creato il mondo in sei giorni, il settimo Shabbat. Abbiamo sei anche, troviamo l'importanza del numero 7 anche nelle settimane. Dopo sette settimane abbiamo la festività di Shavuot, vero? Poi abbiamo il settimo anno. Fatti tutti sì così perché ve l'avevo già spiegato o perché siete d'accordo? Se ve l'avevo già spiegato fa niente. Lo riascolteremo. Ma non recentemente, però già spiegato sì. Non credo, perché è una cosa che ho letto da poco. Vediamo. L'ha spiegato. Io ho fatto così perché vabbè sono cose che... Sì, però sto arrivando alla novità che non avete ancora sentito. Allora, abbiamo parlato dei sei giorni, si arriva il settimo. Sei settimane si arriva... scusate, sette volte sette settimane si arriva la festa di Shavuot perché da Pesach noi contiamo sette settimane. Alla conclusione delle sette settimane arriviamo al giorno 50 che è la conclusione, la corona che è la festa di Shavuot. Poi abbiamo sei anni che si lavora, il settimo anno. Sette volte sette si arriva a 49 anni, il cinquantesimo anno è Yovelli, il Giubileo. Abbiamo detto giorni, settimane, anni, ma non abbiamo detto mesi. Non troviamo nella Torah qualcosa col settimo mese e invece no. La Torah chiama i mesi con i numeri per dare importanza anche al settimo mese. Infatti il settimo mese lo ripetiamo tante volte durante tutto questo periodo. Uvachodesh ashevi'i. Be'echad lachodesh yom teru'a elachem. Il primo giorno è il giorno della teruah. Uvach be'asor lachodesh ashevi'a azee, il decimo di questo settimo mese. Yom ha'kipurim. Uvachamishasar yom lachodesh ashevi'i. Il quindicesimo giorno del settimo mese. E lo stesso troviamo anche con l'ultima festività Shminyatzeret e Simchat Torah. Quindi la Torah ha evidenziato tantissimo l'idea che questo mese non è il mese di Tishrei. Perché i nomi dei mesi sono arrivati dalla Babilonia dopo che siamo tornati dalla distruzione del primo Betamigdash. Quando abbiamo ricostruito il secondo siamo tornati con un'altra lingua e ci siamo portati dietro i nomi dei mesi. che poi hanno un'importanza, come vi avevo spiegato, Elul ogni mese ha un nome che definisce bene il mese, ma la Torah voleva chiamarli con i numeri. E il numero 7 è il numero più importante della Torah. Quindi ci troviamo nel mese del numero 7, che è il mese più importante della Torah. Ok, abbiamo tante festività, ma cosa centrano queste festività una con l'altra? È un mese che è colmo di festività che però sono veramente diverse. Rosh Hashanah è stato fissato il giorno in cui è stato creato l'uomo. Yom Kippur è il giorno in cui Hashem ha perdonato il popolo ebraico per la prima volta. Come sappiamo quando è sceso Moshe la seconda volta con le tavole, ha detto che Hashem ha pernodato. La festa di Sukkot, in verità non dovevamo farla a Sukkot, dovevamo farla in inverno. E cosa c'entra Sukkot nel mese di Tishrei? Perché quando noi possiamo festeggiare Sukkot, quando noi dopo sette giorni siamo arrivati nel deserto e le nuvole di Hashem ci hanno protetto. Quindi avremmo dovuto fare Pesach e poi Sukkot. In realtà ci sono tantissimi motivi per i quali si fa Sukkot in questo periodo dell'anno, ma lo spiegheremo più avanti perché Sukkot è adesso. Però sembrerebbe che Hashem dice Oh ok, ho il mese numero sette, riempiamolo di festività. Rosh Hashanah, Kippur e Sukkot, non c'entrano niente. Ok, casualmente si sono trovate insieme. Per tantissimi anni, chi non ha studiato la Hasidut, credeva che sì, è un mese in cui dobbiamo dedicare a tutte le festività che non hanno un motivo specifico per esserci. Invece no, è tutto perfetto nella Torah. E l'autore del Tania viene e ci rivela delle pietre preziose, dei diamanti di saggezza, davvero delle perle di saggezza in cui noi impariamo a capire che cos'è il mese di Tishrei, il settimo mese. Intanto la Hasidut ci insegna non esiste la casualità nella Torah, non esiste la casualità nella creazione del mondo, non esiste la casualità nella nostra vita. Ogni momento della nostra vita ha un suo perché. Siamo noi che dobbiamo scoprirlo. La Baal Shem Tov ha fatto di questo la bandiera della sua, diciamo, la missione della sua vita. Ha fatto di questo lo slogan della Hasidut. Tutto quello che vedi, tutto quello che senti è un messaggio da Hashem che tu possa imparare da questo. Siamo così bravi da poter imparare e siamo noi che dobbiamo allenare noi stessi. Ma la realtà è così. La realtà è che non puoi neanche pensare che esiste qualcosa in questo mondo che sia casuale. La parola casuale è una parola impura della Torah. Infatti la parola casuale si traduce in mikre, sono le stesse lettere, rakme Hashem, è tutto da Hashem. Quindi, il fatto che queste festività si sono riunite tutte nello stesso mese ci insegna che il mese di Tishrei rappresenta un percorso che ha tante tappe. Ma è un solo percorso e ogni festività ha la sua tappa e questa tappa ha il suo perché nel momento in cui si trova è in collegamento con la tappa precedente e la tappa successiva. Noi troviamo questo concetto, questa idea, nelle parole di Shlomo HaMelech. Shlomo HaMelech ha scritto uno dei libri più belli. Un libro che si chiama Kodesh HaKodashim. Shira Shirim, il cantico dei cantici. Shlomo HaMelech dice in un versetto La mano sinistra di Hashem sta sotto la mia testa e la mano destra di Hashem mi abbraccia. I Chachamim spiegano che la differenza tra la mano destra e la mano sinistra lo spiegano nel Talmud trattato su Sotà lì spiegano che la differenza tra la mano destra e la mano sinistra è che la mano sinistra è quella che trattiene è quella che vuole dare come segnale la distanza. Non è la mano che abbraccia a differenza della mano destra che è la mano che abbraccia. Quindi per avvicinarci ad Akkadosh Baruch Hu e ogni anno noi dobbiamo ripercorrere questa strada perché ogni anno della nostra vita è un anno diverso dagli anni precedenti. Se io sono arrivato a questo numero di anni nella mia vita è perché Akkadosh Baruch Hu vuole darmi la possibilità di arrivare a un livello che l'anno scorso non ci sono arrivato. Questo lo dice chiaramente il Tanya nel capitolo 14 delle Gherita Kodesh dice che ogni anno a Rosh Hashanah arriva una luce nuova che mai dalla creazione non è arrivata. Quindi una luce che rigenera il mondo in un modo più forte e più deciso degli anni precedenti. E vabbè abbiamo avuto anni in cui Hashem è sceso con tutte le sue schiere per darci la Torah abbiamo avuto gli anni con Avram Avino abbiamo avuto gli anni del Betta Migdash con Davida Melech abbiamo avuto grandissime Zadikim vuoi dire che quest'anno 2024 Tishrei Tafshin Peihei è più importante sì perché altrimenti il mondo sarebbe finito. Se siamo arrivati al punto finale non c'è motivo di andare avanti per rimanere uguale e quindi se siamo arrivati al Tafshin Peihei è perché quest'anno abbiamo qualcosa che non era mai successo negli anni precedenti. Nello stesso modo nella nostra vita se siamo arrivati a questo numero di anni e arriva il mese di Tishrei è per darci qualcosa che mai prima di oggi abbiamo ricevuto. Ok? Quindi anche per arrivare a Hashem anche per avvicinarsi ad Hashem anche il percorso di Hashem è fatto da questi due movimenti la distanza e la braccia quindi questo abbiamo imparato quindi il primo passo è distance cosa vuol dire a distanza rispetto mantieni il mio rispetto e io mantengo il tuo rispetto non invadere la mia proprietà non invadere il mio spazio questa è la regola numero uno del rispetto ogni persona ha bisogno del suo spazio e quindi quando tu rispetti il suo spazio hai fatto la prima cosa questo si chiama la mano sinistra che fa così e dice fermo là alto là rispetto al mio spazio in altre parole il timore la reverenza chiamiamola paura non è la parola giusta ma paura di Hashem va bene ci sta timore di Hashem rispetto verso Hashem sì è una mitzvah della Torah abbiamo 613 mitzvot e l'autore del Tania dice sono tutte basate su due colonne tutte le mitzvot positive sono basate sulla colonna di ve hafta et Hashem e lo kecha ama Hashem e tutte le mitzvot negative 365 sono fondate sulla colonna et Hashem e lo kecha tirà abbi rispetto di Hashem quindi abbiamo la mano sinistra rispetto la mano destra l'abbraccio vediamo dove arriviamo prima di unirci con Akkadosh Baruch Hu abbiamo bisogno di rompere la nostra sensazione di essere perfetti il fatto di considerare se stessi in modo eccessivo come Vittorio non so se ti è piaciuta ieri la storia di quel signore di Kipur il signore quello che era perfetto il signore perfetto noi tutti abbiamo questo problema qua non abbiamo bisogno di chiedere perdono per niente siamo fatti siamo perfetti per fortuna è venuto Ravar Bim e ci ha detto che siamo inadeguati quindi non erano parole mie mi ha mi ha mi ha proprio anticipato non è che si è inventato qualcosa anche lui è tutto scritto nella tefilà ma una botta una sberla pazzesca cosa siamo noi cos'è la nostra vita cos'è la nostra forza qual è il nostro eroismo non siamo niente va avanti e dice tutti più grandi eroi tutti i forzuti niente sono sono zero davanti a te e quindi in realtà come ha detto Ravar Bim di Neila ci ricorda che siamo inadeguati però la gente per arrivare a questa conclusione che siamo inadeguati ha bisogno di Rosh Hashanah e di Kipur perché altrimenti si considera perfetta quindi questo è il primo passo questo è la condizione per poter accedere al concetto di avvicinarsi ad Hashem fin tanto che noi siamo pieni di di noi stessi siamo arroganti e siamo sfrontati e abbiamo la convinzione di non aver bisogno di niente di nessuno di essere delle macchine perfette che non sono state create da nessuno sono autonome al 100% non succederà mai niente con te c'è l'esempio che quando il contadino deve seminare il campo prima deve prendere il campo e farlo a pezzi giusto? oggi ci sono i trattori che fanno il lavoro una volta il contadino sudava sette camice la maledizione di Hashem ad Adam con il sudore della tua fronte potrai mangiare e il contadino sapeva cosa vuol dire il sudore della fronte vuol dire prendi questo campo che non ne vuole sapere di tirare fuori il meglio di sé e fallo a pezzi e questa è una fatica e questo siamo noi siamo un campo da coltivare ma prima di coltivare bisogna arare il campo e come si fa ad arare il campo? ci vuole Rosh Hashanah e Kipur deve passare l'aratro e farci a pezzi e questo è l'unico modo per poter far crescere qualcosa il secondo passaggio nel servizio di Hashem è significa la mano destra che avvicina è una frase che ci ritroviamo nel Tani in tutti i libri della Hasidut all'infinito e c'è bisogno dell'equilibrio di entrambi abbiamo parlato nelle prime lezioni quando abbiamo spiegato un attimino che cos'era il concetto dell'amore secondo la Torah secondo la Hasidut il concetto dell'amore inizia con il rispetto c'era questo rabbino in America Romanis Friedman che ha scritto un libro su come vivere una vita familiare riuscita aveva scritto un libro il titolo doveva essere stai zitta che ti amo tanto questo doveva essere il libro il titolo di libro poi l'editore non ha non ha accettato però il concetto che cos'è? siccome io ti amo io ti posso calpestare no non funziona e quindi hai bisogno prima di tutto di imparare il rispetto se tu non rispetti tua moglie se tu non rispetti tuo marito non ci sarà mai l'amore è un falso amore chiamalo come vuoi chiamalo attrazione ma non è amore l'amore viene soltanto dopo aver imparato da rispettarsi l'un l'altro nello stesso modo il rapporto che abbiamo con Hashem che è un rapporto identico al rapporto coniugale ieri sera ho parlato un po' di questa cosa ma non ho accennato che nel Mahzor di Chabad dai sefarditi non c'è ma nel Mahzor di Chabad c'è una bellissima canzone noi siamo il tuo popolo tu sei il nostro re noi siamo i tuoi figli tu sei il nostro padre noi siamo il tuo il tuo pubblico eccetera c'è una bellissima una bellissima parte della tefila e a un certo punto dice noi siamo la tua moglie e tu sei quello che tanto ci ama che bella frase bellissima però per essere la moglie e per farsi amare da Hashem dobbiamo prima aver preparato il terreno quindi Akkadosh Baruch chiaramente ci rispetta e ci ama perché se ci ha chiesto di rispettarlo di amarlo perché lui già lo fa non c'è una mitzvah che Hashem ci chiede di fare che lui non fa l'abbiamo spiegato una volta e quindi dobbiamo imparare a rispettarlo e per imparare a rispettare Hashem abbiamo bisogno di un pochino di timore un pochino di reverenza un pochino anche di paura sì ci sono i suoi spazi c'è la sua presenza e quindi noi sappiamo che stiamo camminando lì dove c'è la presenza della gloria di Akkadosh Baruch e quindi se vogliamo avvicinarci ad Hashem ed avere un equilibrio un rapporto equilibrato con Hashem abbiamo bisogno di entrambe le cose e questi due questi due concetti la sinistra è quella che mantiene la distanza e la destra è quella che avvicina questi sono i due concetti base per iniziare a capire che cos'è il mese di Tishrei la prima parte della festa di Tishrei è chiaramente la parte del rispetto sono giorni che vengono giorni che vengono chiamati Yamim Norayim c'è chi traduce giorni terribili non so se la traduzione è giusta giorni di rispetto dovrebbe essere perché perché in questi giorni noi sentiamo molto di più il timore e il rispetto davanti a Kadosh Baruch sono giorni molto seri sono giorni in cui dobbiamo prendere per mano l'anno passato e valutarlo e come ha detto ieri rabbino siamo inadeguati però dobbiamo esserlo un po' meglio per questo che Hashem ci dà un altro anno e quindi bisogna riparare bisogna fare la teshuva eccetera eccetera in questi giorni noi ci troviamo nella situazione nella circostanza il rapporto tra noi e Hashem in questi giorni è un rapporto di Semol Doha impara a rispettarmi e quindi sentiamo più la distanza dal nostro creatore e molto meno il sentimento dell'abbraccio della vicinanza e come sentiamo questa cosa con il suono dello Shofar il suono dello Shofar c'è un famoso un famosissimo brano del Rambam il Rambam quando parla del mese di Elule di Rosh Hashanah veramente il Rambam era anche un poeta porta un versetto di un profeta Amos che dice Sentirete la sirena perché il Shofar quello che in Israele oggi sono le sirene quando dobbiamo correre ad un rifugio una volta era lo Shofar c'era il responsabile che doveva suonare lo Shofar per dire a tutti quanti attenzione c'è un pericolo imminente e quindi quando la gente sentiva lo Shofar iniziava a tremare quindi si sentirà mai lo Shofar nella città e la gente non inizierà a tremare questo è lo Shofar di Rosh Hashanah per ricordarci che dobbiamo iniziare a tremare perché ci troviamo nella proprietà privata di Hashem questo mondo è la proprietà privata di Hashem no no qui a casa mia ha comprato c'è l'orogito non c'è niente tu che non l'abbiamo detto nella di ieri che cosa abbiamo che forza abbiamo noi abbiamo visto settimana scorsa un piccolo soffio di vento ha distrutto la Florida potevi costruire le case che volevi quando Hashem decide non rimane niente e quindi ricordiamoci che ci troviamo nella sua proprietà privata con lo suono dello Shofar e lo suono dello Shofar rappresenta il regno rappresenta la sovranità di Akkadosh su tutto il creato lo suono dello Shofar sono anche suoni delle che assomigliano a un pianto viene spiegato nella Lachà come deve essere questa terroa che tipo di pianto un pianto lungo un pianto a singhiozzo un pianto di lamento infatti la terroa si chiama Yebava che c'è questa differenza tra Shevarim e terroa ci sono diversi tipi di pianto una persona che si lamenta allora fa questi tre suoni una persona che è talmente sofferente che non riesce neanche a finire un suono di qualche secondo quindi ha dei suoni molto piccoli e la parola Shevarim viene tradotta la parola Shevarim viene dalla parola Shever Shever vuol dire una cosa non completa una cosa intera e quindi tutta questa situazione di avere un cuore che non è intero come dice Davide Melech il sacrificio più bello che puoi fare ad Hashem è di avere un cuore rotto Lev nishbar zivchei lokim roach nishbara Lev nishbar vinnitkei lokim otivze il capitolo 51 di Teilim dice Davide Melech la cosa più bella il regalo più bello il sacrificio più grande che puoi fare ad Hashem è avere un cuore rotto che cosa significa il cuore rotto? significa umiltà significa un pochino di proporzione ricordati chi sei tu ricordati davanti a chi ti trovi come dice la Mishnah in Pirkei Avot dopo tutto questo arriva la seconda parte del mese di Tishrei che è la parte più bella del mese la Rizal dice che la sukkah è un abbraccio della mano destra di Hashem ma fisicamente in che modo? noi abbiamo nel braccio abbiamo tre parti giusto? abbiamo ricordatemi voi l'avambraccio questa parte non ricordo come si chiama braccio questo si chiama l'avambraccio braccio e mano quando vogliamo abbracciare qualcuno usiamo queste tre parti del nostro corpo quindi la sukkah che per alachicamente la sukkah deve avere tre pareti noi la facciamo di quattro pareti perché ci viene comodo ma la sukkah di tre pareti è una sukkah che crescerà al cento per cento ci sono due parti grandi infatti la sukkah deve essere due pareti grandi più una parte giusto? due più un pezzo perché? perché rappresenta esattamente l'abbraccio di Akkadosh Baruch e quindi dato che la sukkah si costruisce con la mitzvah di Hashem e si entra all'interno della sukkah quando noi ci troviamo dentro la sukkah meritiamo questo bellissimo abbraccio di Akkadosh Baruch ora il motivo per il quale noi non facciamo ve lo dico adesso così poi non me lo dimentico il motivo per il quale noi non facciamo la festa di Sukkot subito dopo Pesah è perché il momento migliore per poter ricevere un abbraccio da Hashem è all'uscita da Kippur quando noi siamo stati purificati dai nostri peccati e abbiamo imparato il rispetto perché sono giorni in cui abbiamo tenuto il profilo basso abbiamo imparato il rispetto e ci siamo purificati Akkadosh Baruch dice questo è il momento per ricevere l'abbraccio allora perché non da Kippur si arriva direttamente a Sukkot e lì bisogna imparare anche altre cose ci sono quattro giorni sono quattro lettere del nome di Hashem infatti oggi il giorno dopo Kippur si chiama Beshem Hashem ha un nome questo giorno il giorno dopo Kippur Beshem Hashem è il nome di Hashem è un giorno molto 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 speciale perché perché è il giorno dopo l'espiazione dei nostri peccati siamo puri siamo puliti come degli angeli e quindi è il momento perfetto per poter ricevere l'abbraccio di Hashem ma siccome Hashem ci voleva dare anche un po' di respiro tra Kippur e Sukkot e quindi ci ha dato quattro giorni per prepararci addirittura dicono i Chachamim che Hashem non guarda neanche i peccati non è che non è che dobbiamo fare peccati ma se una persona è scivolata in un peccato siamo talmente impegnati nel prepararci a ricevere l'abbraccio di Hashem tra Kippur e Sukkot quello corre con il suo Lulav l'altro corre con il suo Shach per mettere sulla Sukkot per prepararci alla festività di Sukkot che infatti la Torah dice sulla festa di Sukkot il primo giorno in cui Hashem ricomincia a contare e a segnarsi i peccati che abbiamo fatto da Yom Kippur perché perché questi quattro giorni sono giorni che hanno una potenza spirituale altissima sono giorni veramente veramente di importanza vitale addirittura Akkadosh Baruch Hu ci esamina dopo che ci ha espiato i nostri peccati a Kippur e ci ha siglato nell'anno di vita Akkadosh Baruch Hu dice sì però aspetto voglio vedere come ti comporti dopo Kippur e da lì si arriva a Rosh Hashanah che sono esattamente dieci giorni così come i dieci giorni tra Rosh Hashanah e Kippur abbiamo altri dieci giorni Akkadosh Baruch Hu ci guarda ci esamina e vuole vedere se il nostro comportamento è parallelo al nostro comportamento nei dieci giorni in cui avevamo paura timore del giudizio adesso che siamo liberi dal giudizio vediamo se il tuo rispetto vale il tuo amore o il tuo amore vale il tuo rispetto bene in realtà tutti i giorni quando gli uomini adulti mettono i tefilin si chiama l'abbraccio di Hashem ma è diverso perché quando mettiamo i tefilin siamo noi che abbracciamo Hashem e quindi ci sono dei giorni come ad esempio Shabbat e Chagim cosa facciamo? non abbracciamo Hashem? no non abbracciamo Hashem perché il giorno di Shabbat è superiore quando arriva una festività non abbiamo bisogno di mettere tefilin ma qui stiamo parlando di una cosa completamente diversa qui stiamo parlando non del nostro abbraccio ad Hashem non quando il figlio abbraccia il padre quando il papà abbraccia il figlio è tutta un'altra cosa perché lui sa come si fa lui sa come dare un vero abbraccio e quindi quando ci troviamo ad entrare nella festa di Sukkot quando entriamo nella festa di Sukkot come abbiamo detto prima riusciamo ad entrare nell'abbraccio di Akkadosh Baruch Hu che è una cosa per questo la Hasidù dice non si dorme nella Sukkha anche se la Hasidù dice bisogna dormire nella Sukkha no i Hasidim non dormono nella Sukkha perché perché c'è una luce così così potente che per forza di cose Sukkot deve capitare dopo Yom Kippur perché soltanto dopo Yom Kippur siamo adeguati per poter entrare nella Sukkha ok quindi a Sukkot diciamo che riequilibriamo un attimino l'idea del del timore l'idea del rispetto e mettiamo in risalto l'idea dell'amore della vicinanza e quindi automaticamente la Torah ti dice tre volte nella festa di Sukkot che devi essere felice perché perché quando si scopre l'amore automaticamente le persone sono felici e quindi la seconda parte del mese di Tishrei è nel tempo in cui dobbiamo gioire c'è la ma dal primo giorno di Sukkot abbiamo la mitzvah della gioia ok adesso che abbiamo capito questo velocemente ci rimane ancora quindicina di minuti velocemente volevo spiegarvi un concetto legato proprio a questo argomento che troviamo nella festività di Sukkot quando avevamo il Betta Migdash c'erano tre ingredienti che erano protagonisti nella festa di Sukkot c'era il fuoco c'era il vino e c'era l'acqua dato che nella festività di Sukkot è la festa record dei sacrifici perché si portavano 70 tori nella festività di Sukkot oltre a oltre a 7 o 14 c'è un lapsus di agnelli caprette eccetera eccetera una moltitudine di sacrifici poi tutto il popolo ebraico che ognuno veniva con i suoi sacrifici eccetera eccetera c'erano tre ingredienti fuoco il vino e l'acqua adesso vi spiego quando portavano un sacrificio chiaramente le parti che dovevano essere bruciate venivano bruciate col fuoco sul misbeach poi bisognava versare il vino sul misbeach come ogni giorno dell'anno su ogni sacrificio c'è scritto venisco yain in base al sacrificio che dovevano portare sul misbeach sull'altare c'erano due fori che andavano fino all'abisso così è scritto nella Mishnah e in questi due fori i Kohanim versavano il vino ma a Sukkot c'era qualcosa di particolare a Sukkot dovevano andare nel ruscello a portare dell'acqua a Yerushalayim c'era un ruscello e c'è tuttora quando facciamo la visita dei sotterranei proprio sotto al lato del Bet Hamikdash c'è una corrente di acqua e ci sono addirittura delle piscine fino a oggi c'è l'acqua corrente proprio vicino vicino al Bet Hamikdash quindi quando i Kohanim andavano al torrente a prendere l'acqua quest'acqua serviva perché la Torah dice che bisogna versare anche l'acqua in un modo molto particolare nel trattato Tanit viene spiegato una discussione da dove lo impariamo ma si impara Mem Yud e Mem si impara che a Sukkot oltre l'acqua bisogna versare anche scusate oltre il vino bisogna versare anche l'acqua che cosa si nasconde dietro tutto questo vi racconto velocemente c'è una storia nel Talmud Masechet Berachot che racconta che c'era uno degli autori del Talmud Rav Sheshet che lui purtroppo era non vedente era cieco e c'era un personaggio malvagio un Tzeduki Tzeduki erano quelli che non credevano nei Chachamim ha deciso di schernirlo in pubblico ok una volta è passata tutta la rappresentanza reale con il re con tutti i carri eccetera eccetera e Rav Sheshet ha aspettato per poter fare la Braha c'è una Braha speciale che si dice quando si vede un re è una Braha che oggi si fa fatica a fare magari se si vede il Presidente degli Stati Uniti forse si fa questa Braha la Braha è abbiamo quattro quattro Berachot abbiamo la Braha quando si vede una persona molto 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 saggia si dice se non è ebreo si dice se è un re di Israele si dice altrimenti si dice lui voleva fare questa Braha quando è passato il re ma dato che Rav Sheshet era cieco questo seduchi continuava a mentire e dire adesso fai la Braha adesso sta passando il re adesso è appena passato il primo gruppo di cavalieri con le trombe gli dice fai la Braha fai la Braha e Rav Sheshet non ha fatto la Braha e così una volta la seconda la terza fino a che a un certo punto Rav Sheshet ha fatto la Braha e aveva azzeccato ha fatto la Braha esattamente quando è passato in re allora questo personaggio malvagio questo seduchi è rimasto molto affascinato molto sorpreso ha detto ma scusa come facevi a sapere non vedi come facevi a sapere che proprio il momento in cui è passato il re hai fatto la Braha e Rav Sheshet ha detto beh è un passuk chiarissimo quando Elia Navi è scappato perché c'era questa signora questa regina che si chiamava Isevel ha ucciso 400 profeti lui è scappato famosa storia di Elia Navi che è scappato e Hashem si è rivelato a lui e Elia Navi racconta questa sua visione e dice che è arrivato un vento molto forte e poi questo vento distruggeva tutto quello che aveva davanti anche le montagne e questo vento Elia Navi l'ha chiamato Lo Berua Hashem sto per avere una visione sto per avere una rivelazione di Hashem ma non è questo vento poi a un certo punto è arrivato un rumore frastornante e lui ha detto Lo Berashashem non è con il rumore che Hashem si presenta e dopo il rumore c'era il fuoco ha detto Lo Berashashem e dopo il fuoco c'era Col de Mamadaka un silenzio assordante cosa vuol dire un silenzio assordante vuol dire un silenzio assoluto e quando ha sentito il silenzio ha capito che qui è arrivato a Palazzo Reale a Palazzo Reale c'è silenzio tutti hanno paura del Re e quindi non c'è rumore fin tanto che c'erano le trombe i cavalli eccetera eccetera Ravshashem sapeva che non è arrivato ancora il momento per fare la Berashah quando ha sentito il silenzio quando veramente è passato il Re e lo sguardo del Re può essere fatale c'era un silenzio intorno al Re Ravshashem ha capito adesso è il momento che è passato il Re e Ravshashem perché vi racconto questo perché Ravshashem dice che il regno della terra è simile al regno del cielo e siccome Lio Anavid mi ha spiegato che com'è com'è il regno del cielo che quando si è avvicinato ad Akkadosh c'era un silenzio totale la stessa cosa è successa con Rabbi Akiva e quindi Ravshashem ha detto ho capito che qui e lì sono simili perché vi ho raccontato questa storia di Ravshashem perché bisogna capire che abbiamo nell'acqua nel vino e nel fuoco gli stessi concetti anche spiritualmente che cos'è il fuoco spiritualmente il fuoco rappresenta quando una persona ha un fuoco dentro che cosa vuol dire che è molto molto preso trascinato trasportato acceso diciamo così c'ha dentro un fuoco che arde questo fuoco del sacrificio rappresenta la persona che ha meritato questo grande regalo di sentire dentro di sé un fuoco di amore verso Akkadosh Baruch Hu ogni volta che c'è una mizzoa da fare lui si alza di corsa e corre a fare questa mizzoa in ebraico moderno si dice tradotto non suona bene nelle luci cosa vuol dire nelle luci significa che è riuscito ad attraversare quello che è il corpo fisico ed è riuscito ad attaccarsi alla Neshamah quindi è un uomo che vive di Neshamah quindi tutti quelli che sono tornati da Uman dopo Rosh Hashanah si dice che di loro che sono Beorot Rosh Hashanah Uman li eleva spiritualmente quindi quando vedi questa persona quando fa una mitzvah quando fa la tefilah vedi che è una persona che fa la tefilah con tutto se stesso con un fuoco che arde dentro di sé passiamo al vino devo andare un po' veloce il vino rappresenta la gioia c'è un versetto che dice che il vino rende felice le persone e c'è un altro versetto che dice anche Davide Melech il vino porta gioia al cuore della persona ogni giorno quando noi versevamo il vino sul misbeach i Kohanim versavano il vino sul misbeach automaticamente i Leviim partivano con una bellissima canzone un bellissimo canto dei famosi canti dei Leviim come dicono i Chachamim non si può dire un canto una lode per Hashem se non sul vino c'è un versetto della Torah che dice scusate c'è un insegnamento dei Chachamim basato su un versetto della Torah c'è scritto il giorno che tu meriterai di portare un sacrificio e lo porterai davanti al misbeach gioirai davanti ad Hashem perché ti dà il permesso di condividere il sacrificio anche con te quindi anche noi ricevevamo dei Kohanim una parte andava per Hashem una parte per i Kohanim una parte per noi quando noi consumavamo questa carne era la carne del sacrificio del carne che arriva dal Bet Hamikdash io ricordo quando ero bambino alla tavola del Seder mio papà riceveva un pezzo di mazzà che divideva a tutti i commensali e io mi ricordo questo pezzettino di mazzà che il Rebbe ha mandato alla città di Milano il Rebbe prendeva una mazzà questa per Milano questo per Parigi questo per Londra e quindi ognuno di noi riceveva un piccolo pezzo di mazzà era la mazzà che era nella mano del Rebbe un pezzo di carne che era nel Bet Hamikdash che i Kohanim hanno sacrificato e che Hashem ha accettato questo mio dono e una parte la mangio insieme alla mia famiglia durante Yom Tov questa era la gioia più grande quindi quando beviamo il vino perché c'è il versetto che parla del vino della carne quando noi beviamo il vino e quando i Leviim vedevano che i Kohanim versavano il vino partivano subito sappiamo bene che il vino ci porta gioia non lo devo spiegare anche spiritualmente versare il vino rappresenta una persona che ha una gioia del fatto che merita essere vicino ad Hashem questo lo porta a cantare e a ballare come già vi avevo raccontato che quando i Hasidim si sono un pochino fatti riconoscere si facevano riconoscere per il fatto che loro cantavano e ballavano e la gente diceva questi sono dei pazzi furiosi perché è già abbastanza difficile essere ebrei e dobbiamo anche essere felici di essere ebrei e purtroppo l'ebraismo prima dell'avvento della Hasidut quando il Bal Shem Tov ha affrontato l'ebraismo di quel periodo era un ebraismo triste ci sono ancora degli oppositori alla Hasidut che sono delle persone tristi sono tristi di essere coloro che devono fare le mitzvot ok abbiamo fatto anche questo oggi come dire mi sono tolto il peso purtroppo mi è capitato a me e sono persone che ho conosciuto sono persone tristi purtroppo e quindi abbiamo bisogno di un po' di vino cosa vuol dire un po' di vino abbiamo bisogno di un po' di gioia interiore e questa gioia interiore fa sì che le nostre mitzvot vengano fatte nel modo giusto a Kadosh Baruch Hu ci dice né fuoco né rumore né vento eccetera eccetera anche se sono cose molto molto importanti ma non siamo ancora arrivati lì abbiamo parlato del fuoco abbiamo parlato del vento che è il rumore quando una persona fa una mitzvah con gioia la fa con tanto rumore non siamo ancora arrivati lì per arrivare ad Hashem cosa abbiamo detto il silenzio perché perché fin tanto che c'è la felicità di fare una mitzvah il fuoco di fare una mitzvah ma è sempre la persona sono felice di essere quello che fa la mitzvah sì ma quando ti avvicini ad Hashem abbiamo spiegato che Rosh Hashanah che ci avviciniamo con il rispetto dobbiamo prima rompere noi stessi e quindi il modo per poter avvicinarci ad Hashem è vero con la gioia attenzione non solo gioia non solo amore come vi ho spiegato prima amare una persona senza rispettarlo rovini tutto per amare una persona lo devi rispettare quindi è importante il fuoco è importante il vino ma dobbiamo arrivare adesso al concetto dell'acqua perché perché è così importante perché quando una persona mette le sue proprie emozioni in quello che fa anche se sono positive può deviare queste emozioni in cose negative purtroppo così abbiamo visto cosa ha fatto se il peccato di Adam Rishon era l'uva abbiamo visto cosa ha fatto l'uva comunque siamo sicuri che Noach si è ubriacato e abbiamo visto che è andata a finire molto male e quindi il vino può sì portare felicità però è una lama a doppio taglio per quello che quando arriviamo a Sukkot che è la festa che si trova a Tishrei alla fine del mese di Tishrei la seconda parte dobbiamo subito inserire un terzo ingrediente l'acqua perché nel Betta Migdash abbiamo spiegato veniva anche versata l'acqua su Misbeach e questo succedeva soltanto nella festa di Sukkot quando si metteva l'acqua sul fuoco l'acqua chiaramente spegne il fuoco o indeboliscono la fiamma del fuoco la stessa cosa quando noi aggiungiamo acqua al vino il vino è meno forte e ha un effetto minore sulla persona quando lo beve dato che tutto quello che è fisico e anche spirituale l'acqua rappresenta il totale annullamento questo silenzio la persona mette se stesso completamente perché l'acqua perché l'acqua non ha gusto e quindi tutto quello che ha davanti a sé non è la mia emozione il mio amore il mio rispetto no ho soltanto te di fronte a me il vero 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 amore è quando io non ci sono ci sei solo tu e quando per me ci sei solo tu e per te ci sono solo io questo è l'amore più perfetto che c'è quando ho messo da parte me stesso è difficilissimo chiaro perché ognuno dice no io voglio far parte di questo amore voglio far parte di queste emozioni voglio anche trovare il mio spazio dentro tutto questo sì è vero e questo però rovina però è un'interferenza che darà sempre difficoltà a trovare il punto di incontro quando una persona mette completamente da parte se stesso si arriva all'amore totale ricordo il mio maestro uno dei miei maestri ha raccontato che quando lui si è sposato è andato dal suo maestro che era Mendelfutterfass di cui abbiamo parlato tante volte era il giorno del matrimonio ha detto dammi un consiglio per il matrimonio dice hai l'anello dice sì ho l'anello in tasca fra poche ore c'è la cupa dice prendi l'anello allora dice ok ho preso l'anello dice cosa vedi cosa vedo vedo un anello quindi cosa vedi oro allora tu vedi l'anello tu vedi oro non sei pronto per sposarti vai annulla tutto di che non ci si sposa più dice ma cosa cosa c'è da vedere l'anello un cerchio di oro questo è quello che vedi allora niente lascia nulla torna torna a casa dice dai cosa c'è da vedere dice io non vedo niente io vedo un buco l'anello semplicemente per dirti che qua c'è niente questo è l'anello se tu vedi l'oro allora non sarai mai una persona felice se tu vedi il niente sarai una persona felice Mendelf gli ha insegnato a questo Rav Rav Szafta Slavatitsky di Anversa gli ha detto se vuoi un successo nel tuo matrimonio tu devi essere niente se tu sarai niente automaticamente il tuo matrimonio sarà perfetto la stessa cosa è il rapporto tra noi a Kadosh Baruch Hu i grandi tzaddikim riescono ad arrivare ad essere niente e quando sono niente sono quelli che veramente godono di un matrimonio perfetto tra loro e Hashem l'unica cosa che vogliono è la volontà di Hashem l'unica cosa che vogliono è il re stesso come ha detto l'autore del Tania una volta un chassid sentiva delle voci dallo studio dell'autore del Tania ha messo l'orecchio e sentiva l'autore del Tania che cantava e piangeva e piangeva e cantava e poi a un certo punto ha detto non voglio né il tuo ganede non voglio né il tuo lamabà tutto quello che prometti non mi interessa voglio solo te che frase bella voglio solo te non voglio quello che il matrimonio si porta dietro non voglio tutte le conseguenze positive una sicurezza una tranquillità una famiglia è tutto vero è tutto importante ma io voglio solo te questa è l'eccellenza del matrimonio questa è l'eccellenza della festività di Sukkot in cui la Torati dice è tutto importante il fuoco per i sacrifici il vino è importante ma aggiungi l'acqua che l'acqua significa l'assoluto l'assoluto annullamento davanti a Kadosh Baruch quando si dice silenzio quando c'è silenzio non vuol dire che bisogna stare in silenzio non vuol dire che bisogna spegnere lo stereo e fare silenzio non bisogna spegnere questo fuoco che abbiamo dentro di noi perché in Betta Mikdash si versava sia il vino che l'acqua ci vogliono tutte le due cose ci vogliono tutte le tre cose ci vuole anche il fuoco ma questo ingrediente è un ingrediente fondamentale quando ci si avvicina a Kadosh Baruch Hu si può fare anche l'opposto di uno il fuoco e l'acqua il vino con l'acqua il vino con l'acqua rovina il vino no davanti a Kadosh Baruch Hu tutto è perfetto perché ci si annulla quando ci si annulla tutto è perfetto bene io andrei ancora avanti qualche minuto ma siamo arrivati solo a metà della spiegazione in teoria domenica prossima che è con la Moel possiamo fare la seconda parte di questa lezione che è in realtà la parte più interessante con piacere avevamo semplicemente messo le basi oggi per poter spiegare cosa dice veramente la Hasidut che cos'è l'amore che rappresenta Sukkot tra noi e a Kadosh Baruch Hu quindi una cosa abbiamo imparato abbiamo imparato che ci stiamo avvicinando alla festa in cui a Kadosh Baruch Hu dice preparati che adesso ti do un bel abbraccio questo abbraccio dura sette giorni e questa è la festa di Sukkot e per preparati che ti do un bel abbraccio non è una preparazione di quattro giorni è una preparazione di quaranta giorni il mese di Elul Rosh Hashanah Aserti Mechuvah Akhipur tutto questo è una preparazione per arrivare all'abbraccio quindi quando entriamo nella Sukkot ha detto Rav Belino stamattina che le pareti della Sukkot sono così Kedoshim che in teoria non potremmo neanche buttarle via come i tefilim che mettiamo il Rav Belino ha spiegato che le pareti della Sukkot hanno una Kedushah superiore a quella dei tefilim però siccome Akkadosh Baruch Hu ha deciso che la Kedushah della Sukkot dura solo sette giorni e dopo non rimane la Kedushah a differenza dai tefilim dove c'è il nome di Hashem quello deve essere mantenuto con rispetto quindi la regola è così ma durante la festa di Sukkot la Kedushah è così elevata come ha detto una volta Rebbe Marash a qualcuno che è entrato un po' arrabbiato nella Sukkot ha detto esci fuori calmati e poi rientri perché perché lo Schaf non sopporta le persone arrabbiate qui c'è solo gioia qui c'è solo pace qua c'è solo amore qua c'è solo abbraccio e quindi cosa venite col broncio sei nel posto sbagliato o arrivi col sorriso o non entrare proprio quindi proprio l'ha mandato via ma lo muovo non si può entrare nella Sukkot col broncio in Sukkot si entra con un sorriso da qui a qui e anche se dovesse piovere non pioverà ma anche se dovesse piovere si entra col sorriso lo stesso nella Sukkot e si fa la mitzvah di mangiare nella Sukkot la prima sera sicuramente e si riceve questo bellissimo abbraccio di Akkadosh Borgo auguro a tutti quanti voi di sentire questo abbraccio ogni momento della vostra vita e di poter avere un Chagazukot felice e di festeggiarlo a Yerushalayim col Bet Hamikdash per poter portare i sacrifici con il vino e anche con l'acqua a Yerushalayim